Cari amici, questa è la prima domenica del tempo ordinario, cioè finito il periodo natalizio c'è un susseguirsi di domeniche e di settimane senza grandi feste, fino ad arrivare al mercoledì e dei ceneri dove inizia il cosiddetto tempo forte della quaresima. È sorprendente però che la prima domenica del tempo ordinario ci metta davanti una notizia straordinaria, bella e attraente. Ci dice che Gesù è lo sposo dell'umanità. Sentiamo. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, ma sarai chiamata mia gioia e la terra sposata. E continua. Come gioisce lo sposo per la sposa? Così il tuo Dio gioirà per te. Tutto questo è significato e vissuto da Gesù, da Maria e dai primi discepoli alle nozze di Cana in Galilea, di cui oggi il Vangelo ci parla. Abbiamo qui alla mia destra l'anfora che ricorda l'acqua cambiata in vino e la croce, perché le nozze di Cana fanno riferimento alla croce, ma lo vedremo dopo. Non hanno più vino, dice Maria. Cioè sono senza vino, simbolo di gioia, di amicizia, di amore. E quando non c'è più questo vino, la festa finisce. È un fallimento. Gesù, per intercessione di Maria, cambia l'acqua in vino e la festa può riprendere. Il Vangelo dice, questo fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Dunque è un segno segno di qualcosa che dovrà capitare. È il segno del momento in cui lo sposo dell'umanità amerà talmente la sua sposa da dare la vita fino a versare il suo sangue sulla croce. Segno dell'acqua cambiata in vino. segno che Gesù non vuole che la festa finisca. Non vuole separarsi da noi che lo abbiamo abbandonato e da tutto se stesso fino all'ultima goccia di sangue per recuperarci tutti nella festa senza fine della risurrezione e della vita eterna, descritta come un gioioso banchetto dove tutti vivono in festosa amicizia. Per arrivare a questa festa riascoltiamo le parole che Maria dice ai servi qualsiasi cosa Gesù vi dice fatela. Questo è il senso. Mettere in pratica quanto il Signore ci dice cioè la sua parola, il Vangelo, il Vangelo di questa domenica, di ogni domenica. Ecco allora alcune indicazioni per vivere la parola della settimana che abbiamo davanti. Prima indicazione. Meravigliamoci delle parole come gioisce lo sposo per la sposa così il tuo Dio gioirà per te. Lui non ci abbandonerà mai. La vita è dura lo sappiamo soprattutto in questo momento ma non stacchiamoci dallo sposo. Non dubitiamo di lui anche quando sembra nascondersi. Secondo ancora meravigliamoci di quanto ci ha voluto bene ma guardiamo a Maria sia alle nozze di cana sia quando sarà sotto la croce. Lei intercede sempre per la nostra salvezza. Chiediamole di aiutarci a vivere il Vangelo, a fare quello che Gesù ci dice e a non aver paura perché suo figlio sarà sempre dalla nostra parte come noi lo sposo per la sposa. Maria ci invita proprio a non aver paura. Voi sapete che questa frase è una di quelle che ricorrono più sovente nel Vangelo. Non aver paura perché lo sposo è dalla nostra parte fa di tutto per noi. Terza indicazione. Preghiamo per gli sposi, per le famiglie, per le nostre famiglie perché non manchi mai la preghiera, la presenza viva di Gesù e di Maria tra noi. Ricordiamoci dove c'è un uomo e una donna che pregano lì c'è Dio. Nelle famiglie dove manca la preghiera è un disastro. Sì è proprio così, è un disastro. Nelle famiglie dove si prega fioriscono pur nella fatica quotidiana la fedeltà, la pazienza e la gioia. Vi ripeto dove si prega fioriscono queste tre bellissime parole. Fedeltà, pazienza e gioia. Il luogo più sacro della terra è là dove un uomo e una donna pregano insieme. Dove vivono la parola e di conseguenza si fanno dono l'uno all'altro. Lì è il capolavoro della creazione. Lì è la bellezza dell'amore. Lì è il volto della Trinità sulla terra. Proprio lì nascono tutte le vocazioni. Cari amici vi auguro di vivere per tutta la settimana la festa delle nozze di Cana perché anche in noi fioriscano le parole fedeltà, pazienza e gioia.